Un tradizionale appuntamento che si ripete, la Fiera di San Cipriano torna nel giorno in cui si celebra la Festa della Repubblica. Sì, anche quest'anno, il 2 giugno, torna la Fiera di San Cipriano che si svolgerà come da tradizione a Tavernelle. Dalla mattina più o meno alle 9 fino alla sera dopo cena, orientativamente fino alle 21, troveremo le bancarelle. Ci saranno venditori ambulanti, obbisti, artigiani nella zona della Via Flaminia e nella zona del Bocciodromo. Inoltre quest'anno sarà presente anche la Proloco di Serungarina che proporrà il baccalà come piatto tipico. Inoltre la Fiera di San Cipriano è un momento di festa molto sentito a Tavernelle che ormai è presente da molti anni sul nostro territorio, da oltre dieci anni da quando è stata istituita con il sindaco Fabio Ciriscioli. Quindi vi aspettiamo venerdì 2 giugno a Tavernelle di Colli al Metauro.